benvenuti in un nuovo episodio di minecraft telecopolis questo impianto funziona alla perfezione sto accumulando parecchie risorse l'unico problema è questo cioè il quarzo perché se proviamo a vedere ho 9k di iron ma del quarzo ne ho 270 e sta scendendo perché sto facendo un po di quarzo invece l'iron neanche troppo poi ho cambiato un pochino la base ho coperto con il verde ho fatto delle linee verdi perché sembravano carine e ho tolto questa parte qui perché non credo la userò e preferisco tenerlo aperto inoltre non so se l'ho mai fatto vedere ma la clip viene da qua e oggi volevo iniziare completando un po di vecchi quest giusto per avere tutte le quest completate quindi abbiamo questi cavi strani poi con questa dovremmo completato altre tre quest il dove controller ce l'abbiamo capitolo completato qui chiede un calcolatore eccolo qua altro capitolo completato una magmatic generator e un termo generator altro capitolo completato la dynamic tank della mechanism che è anche piuttosto carina non forse la useremo con buyer belt coperte va bene poi ho come l'impressione che questa parte di quest salva più per l'overworld che per la skyblock perché noi nel trasferimento tramite minecart degli oggetti c'è trasferimento da dove a dove che abbiamo una singola isola in pratica poi in realtà questa è tutta roba che non useremo però questo capitolo completato ora vuole un piccone di advanced techium e un controller della ex net la ex net forse da userò poi abbiamo calcolation logic ed engineering processor perché non la faremo ma anche i storage poi un blast killer che se non sbaglio fa il ghiaccio no non fa il ghiaccio praticamente non vedo l'utilità di questo blast killer ma può essere completata e anche capitolo o questo è un po dispendioso e anche questo in realtà dopo il minor tier 4 c'è la meccanismo e tipo non abbiamo nessuna quest completata però l'abbiamo fatta nello scorso episodio quindi direi di completare le quest lo vuoi basico ovvero non funziona quello avanzato no ecco a te quello basico poi vuole i due circuiti purification chamber cioè lui vuole farmi fare la triplicazione no no perché vuole fare la triplicazione così a caso cioè tipo ho bisogno di triplicare le ore non credo ma in realtà il quarzo avrei bisogno di triplicare ma non possiamo farlo quindi cioè è inutile vabbè completiamo la quest ecco qui la purification chamber gli diamo la flint e un po di gold ci dà il gold clamp ora noi combattiamo la quest e questi non li vedremo più per praticamente il resto della serie perché non ha senso triplicare la roba questo per ora preferirei evitare e adesso siamo in pari infatti adesso ci chiede la progressione della meccanismo come possiamo vedere il manier di tier 4 sblocca lo zinc e l'uranium ma io non li ho ancora messi perché lo zinc e l'uranium non servono solo ed esclusivamente al crafting della dielectric paste poi l'uranium ovviamente si virà anche per dare per fare energia con il reattore quello è un lupo sì allora vorrei fare uno di questi per vedere se riesco a spostare gli animali e io ho una di queste che è ottimo credo di averla ottenuta dalla smelteri un paio di volte che ci sono caduto dentro quindi con questa dovrei riuscire a prenderti oh sì e poi se ti tolgo dovresti cadere sì giusto per curiosità adesso vorrei automatizzare questo dielectric paste però quanto me ne servirebbe per un reattore? allora i reattori sono composti da 36 io vorrei provare con l'hardnet quindi per 36 ne richiede 116 ma è pochissimo prima di iniziare il sistema per automatizzare la dielectric paste ci saranno alcune cose da considerare e con alcune intendo il call che produciamo già e anche il set brick che produciamo già qui quindi direi che aumento un attimo tutti questi storage e poi ci metto uno storage bus cioè external storage con una priorità negativa in questo modo posso accedere grazie ad appieda questi senza che vengano depositati qui dentro quando li rimetto nel sistema ma nei dischi in questo modo la produzione continuerà fino a che il drawwell non si riempie ah e forse questo non l'ho fatto vedere in episodio ho messo un wallet transmitter con questi ninja upgrade qui e in realtà me l'avevo anche dimenticato perché qui dalla base non riuscivo ad accedere quindi pam l'abbiamo già collegato perché c'era già questo cavo qua molto comodo e infatti adesso nel sistema vedo i sered brick e dato che ci sono direi di impostare anche questo drawwell che è quello per l'advanced techium e inoltre non l'avevo ancora fatto ma ho collegato con uno external storage anche la produzione di terracotta allora sto facendo il setup per gli electric paste quindi sered brick con le infused crystalline mentre qui ci metterò le cose che produrremo qui vicino ho portato la refiner storage e voglio esportare infused crystalline con le sered brick questo però non lo produciamo noi produciamo la dust quindi pensavo di fare un requester in realtà scherzavo non lo volevo fare vorrei autocraftarlo ok perfetto un requester vorrei di metterlo tipo qui sopra si dovrebbe collegare e gli dico che nel sistema vorrei tenere questo e direi 124 e dovrebbe iniziare a farlo qui in automatico esatto poi qui sotto mi ha messo a fare un po' di rotten flash perché vorrei fare degli altri mob absorber poi anche qui siamo al limite con il wireless crafting grid perché quando lo prende mentre qua si quindi wireless transmitter poi mi ricordo bene qui c'era una volpe intrappolata e vorrei prenderla e portarla qui sperando che non possa uscire con questa disposizione sembra piuttosto intrappolata quindi loro iniziano a produrre mob essence e nessun drop perché noi vogliamo solo la mob essence mob essence che verrà inserita all'interno del mob duplicator con una blazerod quindi questo sarà blazerod infinite poi c'è bisogno di un miner per l'uranium e uno per lo zinc altri due miner di tier 4 e li mettiamo qui poi una volta configurato lo zinc direi di metterlo qui e questo dovrebbe aumentare perché ho collegato il miner pulverizer headstone fornace zinc per l'uranium invece è diverso perché non ci serve l'uranium ci serve l'uranite per questo dobbiamo fare prima un uranite extractor e per farlo serve prima un po' di uranium quindi direi di prenderlo e buttarlo qui e abbiamo anche l'uranium ingot uranite extractor lo collego e quindi qua iniziamo ad ottenere la raw i uranite che poi andrà cotta poi anche questo viene filtrato mandato qui e collegato al sistema dell'integrated in questo modo dovrebbe uscire non esce subito perché gli ho impostato di metterlo solo quando è sicuro di poter mettere lo stack quindi in teoria adesso lo è esportato tutto lo stack perfetto quindi se collego interface export e ci metto la card lui inizia a farmi e di electric paste il piccone mi continua a rompersi e dato che non ho troppa voglia di upgradarlo in qualche altro materiale direi di aggiungerci un diamante in questo modo la durabilità aumenta di 500 dato che non è il techium ho fatto una strutturina un pochino più bassa devo ancora metterci i petri ma per adesso abbiamo fatto il 500 di electric paste come siamo messi qua benissimo quindi abbiamo un bel external storage qui per vedere la di electric paste e qui in realtà vorrei fare una cosa diversa perché di questi drawer in realtà mi interessa solo l'uranite quindi metterò un external storage anche sul drawer della uraninite o uranite dato che questi uranite extractor sono piuttosto lenti ne ho aggiunto un altro quindi adesso doppiamente più veloce vi ricordavate quando avevo detto che mi interessava solo l'uranite qui e che il resto non volevo vederlo beh mi sbagliavo perché sarebbe carina vedere anche le blaze rod ora l'unica cosa che ci impedisce di fare un reattore in realtà è nulla perché per esempio potremmo fare il basic il problema è che vorrei fare una un pochino migliore quindi servirà l'energized steel che in questo pack non si fa con l'iron ma con lo steel e con il gold poi tipo continuo a dimenticarmi delle quest quindi di prendere dello zinc e anche il lingotto ma l'ho tenuto in mano prima di electric paste ok va bene quindi seguiamo le quest direi poi io ho già un paio di cosette in autocrafting quindi direi di fare 16 di questi perché servono sempre e poi energized mi fai uno stack di queste e poi mi fai uno stack anche di queste come stavo dicendo mi è energizing orb e poi serve qualcosa per caricarlo direi di fare tipo 6 di queste load basiche che non staccano poi in maniera del tutto temporanea direi di utilizzare la Xnet per fare una specie di autocrafting poi per separare direi di fare una cesta e un bar l'accesso sarà l'input quindi creiamo un item sulla cesta facciamo estrai lo still e gli diciamo di inserirlo qui dentro però vuole al massimo un uno di still poi creiamo un altro canale sempre per gli item e gli diciamo di estrarre questa volta il gold è di inserirlo qui dentro sempre con il limite di un item poi qui diciamo sempre di creare item estrai e inserisci nel barrel e in teoria dovrebbe funzionare ne inserisce solo uno e uno di gold still quindi qua si inizia ad accumulare l'energia z still e ora che abbiamo l'energia z still possiamo anche fare delle rod di tier successivo in questo modo il caricamento è molto più veloce qui la farm sta andando alla grande e adesso possiamo fare il reattore anche se prima direi di partire dal basic principalmente perché ho visto le quest e nelle quest viene non è il basic ma è lo starter come non detto perfetto qua è scompletata adesso abbiamo due reattori uno di questi me lo fai hard head eccolo qua ho già messo qui un exporter dal nostro sistema che esporterà blocchi di redstone blocchi di coal uranite blocchi di coal ho spostato lo coal da lì a qui così abbiamo i blocchi e si mette il reattore lui si costruisce da solo e gli dico auto mod on quindi quando quindi produce energia da solo e si auto aggiusta e adesso sta generando 10.000 RF su TIC ora vuole un fullant e del fluido per l'endertank direi di metterla qui e collegarla all'acqua quindi se ci metto un exporter e una card questa dovrebbe riempirsi d'acqua perfetto e poi tipo te la metto qui sopra la colora di blu e la metti in output poi manca il coolant e proprio adesso il sistema della piede si è appena spento probabilmente perché abbiamo appena finito l'energia esatto quindi è arrivato il momento di collegare questo reattore a un qualsiasi tipo di cavo perché tanto sono tutti collegati in questo modo dovrebbe tornare l'energia oh si non mi andava bene stare da lì da qui va bene dove c'è questa specie di porta quindi adesso esatto è tornato tutto online perfetto adesso mi ricordo che c'era un blocco molto comodo della engineer's decor che era questo messo tutto in autocrafting e voilà ora questo se chiamiamo rfa dovrebbe iniziare a produrre ghiaccio però non ha la gui quindi come facciamo a sapere che è ghiaccio in teoria dovrebbe cambiare questa icona qui tipo adesso è appena cambiata questo se adesso lo tolgo è ghiaccio normale ok è tornato ghiaccio normale se lo lasciamo ancora mi sembra si è cambiato di nuovo sì questo è blue ice e il ice all'interno del lettore ha un valore molto migliore rispetto al ghiaccio o packet ice il top sarebbe il dry però non credo di voler automatizzare questo solo per il singolo coolant anche se potrei pensarci quindi metto il filtro per il packet ice in realtà il motivo per cui l'ho messo qui è che qua c'è un ender chest vicino e anche corrente quindi se gli do il filtro di esportare solo il packet ice e lo collego e dovrebbe esportare solo il packet ice e non il ghiaccio il blue ice direi di metterlo qui dove ho messo anche un void upgrade perchè non vorrei che mi intasassi i dischi e poi direi di attaccarlo qui sotto di dirgli di esportare anche il blue ice all'interno del reattore in questo modo dovrebbe entrare se lo metto nel sistema si e adesso dovrebbe produrre un po' di più sta salendo 10.000 rf non male 11 ora direi di fare il tier successivo della powa che sono blaze rod quindi adesso metto delle blaze rod qui dovrebbe inserire solo una lì dentro perfetto e con questo dovrebbe fare blazing crystal oh questo è tantino non credo ce ne servirà così tanto è meglio averlo piuttosto che non poi dato che adesso abbiamo il blazing crystal posso fare dei blazing capacitor e continuare a prodare queste rod prendere più veloce il processo e ottenerne di più non di più cioè è sempre lo stesso diciamo che lo otteniamo più velocemente il che diventano niotic crystal poi più o meno è sempre la stessa storia si fanno passare al tier successivo le rod per dare più energia per felicitare un po' il processo il penultimo tier è lo smeraldo se dobbiamo fare le cose facciamone fatte bene ho fatto una farm di dry ice sono 6 small water freezer che prendono l'acqua e energia grazie alla exnet qui sotto poi vengono estratti inseriti all'interno del lord con sempre la exnet che filtra quindi ce ne mette al massimo 2 qui sotto ci sono delle prod e funzionano anche da sotto e poi c'è un importer e nel frattempo ecco qua un po' di spirited crystal quindi ora possiamo fare 36 reactor spirited e questo è l'ultimo tier che possiamo fare anche perché la netherstar non possiamo ancora ottenerla perché non abbiamo la sol sempre le vocale in wither qui c'è i se direi di togliere questo e sostituirlo con questo questo produce 62 mila rf su tic direi che possiamo buttare giù poi lì è quello e direi anche che per questo episodio è tutto e noi ci rivediamo a un prossimo